È presente da 28 anni consecutivamente nell'elite del calcio dilettantistico regionale, tra eccellenza e promozione. Il Santomero riparte per una nuova avventura che lo vedrà sicuro protagonista nel prossimo campionato di promozione, dopo aver sfiorato i play-off nella stagione passata. Il presidente Costantino Biancucci ha affidato nuovamente le sorti del club al tecnico Riccardo Pennesi, capace di svolgere un ottimo lavoro con un gruppo giovane tra le mani, contribuendo alla crescita dei migliori prospetti. La linea verde è stata confermata anche per la stagione alle porte, se possibile ancora più accentuata. Sono tanti i giocatori provenienti dal settore giovanile, vera ossatura della società vibratiana che sui suoi ragazzi punta forte per costruire un futuro importante. Accanto a loro la Palmenzi ha confermato i giocatori più esperti presenti in rosa già lo scorso campionato, tra loro il difensore Stefano Bizzarri, il capitano Dario Casali e il bomber Vincenzo De Rosa. Mirati gli innesti operati in sede di mercato. In porta è tornato il 33enne Giancarlo Grande, già in passato con la maglia bianca azzurra sulle spalle. Un ritorno anche a centrocampo, quello del 24enne Matteo Galli, cresciuto nel settore giovanile di casa prima di passare all'Ascoli e poi al Giulianova. In attacco il Santomero punta soprattutto sui colpi del 28enne Terramano Domenico Campana. La rosa che ha iniziato a lavorare gli ordini di mister Pennesi dunque è composta dai portieri Grande, Alfonsi e Moro, dai difensori Bizzarri, Di Silvestre, Mancini, Lamona, Di Fabio, Carosi e De Ascentis, dai centrocampisti Casali, Galli, Di A, Tassoni, Di Eusebio, Di Amario, Tomassini e Mosconi e infine dagli attaccanti De Rosa, Campana, Cimiconi, Costantini, Di Pietro e Pediconi. Toccherà a loro ripetere l'ottimo campionato e magari fare quel piccolo passo in più che potrebbe permettere al Santomero anche di lottare per l'eccellenza.